È durato 4 ore il delicato intervento dei soccorsi sulla 21 nei pressi di Arena Po in provincia di Pavia, a circa 3 chilometri da Casta e San Giovanni, dove questa mattina un autocarro adibito al trasporto dei cavalli si è ribaltato. Subito sono state medicate dai sanitari del 118 di Piacenza le persone che viaggiavano a bordo dell'autocarro. Due sono state trasportate all'ospedale di Stradella con lievi ferite. Più serie le condizioni di una terza persona, accompagnata per le cure del caso all'ospedale di Casta e San Giovanni. Le operazioni più impegnative sono state quelle per il soccorso dei 5 animali da corsa, tutti vivi e tratti in salvo dai vigili del fuoco di Casta e San Giovanni e Piacenza. Il traffico in direzione di Torino ha subito lievi rallentamenti per la chiusura di una corsia. Sul posto sono intervenuti anche due veterinari dell'asla di Piacenza e Pavia che hanno visitato i cavalli.